Queste sono castagne curate, calo fuoco, girate, voltate, poi sementano dentro il sacco di zoccoliato. Questo è lo zoccoliato, perché sono castagne tutte scelte. Abbiamo questo zoccolino. Questo è lo zoccolino. Questo è lo zoccolino. Questo è lo zoccolino. Il sacco di zoccolino è un po' di zoccolino. Non è un po' di zoccolino. Questa è un po' di minura. Grazie a tutti. e ne sono pronti tu e poi la scelta una e qui devi ripassare perché c'è la corcia vanno ripassate